Questo qua da quando abbiamo messo questi qua vicino, poi ogni tanto si mette anche nell'acqua. Questa è un'acqua. Prendi l'annaffiatura, se ce la fai, Luca, guardami l'annaffiatura. In quella gomma, se ce la fai, la prendi e la riempi e noi bagnamo. Poi ci mettiamo, dopo bagnare, le cucine. Se la fai a prendere la gomma? Si. Se la fai a prendere la gomma. 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 La città è un'altra città. Sì, è bellissima, qua, è bianco il bici, lo vedo, qua, è bianco il bici, qua, è bianco il bici, se si prendono, li lasciamo, tanto per fare anche lo spazio. Ci vedo, qua, via, il bici, qua, via, il bici, qua, è bianco il bici, qua, la bici, qua, è, qua, chi mi ha detto, qua, la bici, qua, la bici, qua, qui, qua, la bici, qua, ci metti la terra in don e poi le schiaccia. si mette così, si mette lo terreno intorno si mette lo terreno Grazie a tutti. No, questo non è il suo. Devi prendere l'altro vecchio, questo qua nuovo, non è uguale a questo. Devi prendere l'altro vecchio come questo. No, no, te lo presto io? No, no. Aspetti meglio che faccia. No, sono quelli là che devi trovare quelli due uguali. Esattamente di Europa che parte dentro del garage. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Se tu lo hai qua, mai sembra rani, non vedi, guarda qui, qua non è rusto, vedi, metti la bianca, fa senti, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti